Ciao da Luci, oggi finalmente vi faccio vedere come si fa la gonna che avete visto in antiprima e che ho fatto già da un po' ma non riuscivo a registrare la gonna è questa e prima di farvi vedere come si fa su campione volevo prendervi le varie misure e soprattutto dirvi dove prendere le misure per fare questa gonna o evitare di avere problemi ad infilarla perché non ha né cerniere né bottoni ha una semplice culisse in vita ma in ogni caso serve solo per stringere un attimino o per bellezza in realtà questa gonna deve avere la larghezza dei vostri fianchi io l'ho fatta con la tiro un po' giù ecco se entra nell'inquadratura io l'ho fatta con un bordino molto basso perché io vesto con una vita molto bassa e ora vi dico quanto misura il mio bordino il mio bordino per l'esaltezza misura più o meno 7 cm ecco diciamo millimetro più millimetro meno 7 cm la circonferenza è la circonferenza dei miei fianchi e ora aspettate che allento così la prendo bene vi dico che è per l'esattezza vediamo così 45 che per 2 fa 90 e quindi abbiamo la circonferenza e arriva al ginocchio quindi adesso vi dico la lavorazione senza bordino senza bordino è di 36 cm con il bordino è appunto 43 cm poi vedete che il fondo della gonna è tutto a zigzag perché ho usato il punto zigzag ecco qua la sfumatura è stupenda ed è lavorata con ecco qui la bellissima cakes cotton fine io ne ho usate due due cakes cotton fine di questa bellissima sfumatura che parte dal viola poi diventa una nocciola e poi arriva all'azzurro ora vedrete magari i colori della registrazione un po' falsati ma vi assicuro è veramente bellissima ne ho usate due per la gonna corta rimane una gonna molto coprente perché guardate io la metto tranquillamente senza sottoveste vedete non si vede nulla sotto quindi la metto tranquillamente senza sottoveste ed è una gonna molto coprente io ho usato appunto due cakes con un uncinetto del 2,5 quindi se volete usare le mie indicazioni la gonna è una taglia L perché sapete il mio fisico è a pera quindi sopra porto una taglia M ma la parte sotto del corpo ha una taglia L quindi comunque questa gonna è una taglia L certamente se avete una S e una M può essere che vi venga più lunga o se la volete lunga uguale userete meno filato se volete potete farla più traforata io adesso vi faccio vedere come l'ho fatta io ma se la volete più leggera più traforata per poterla fare più lunga con lo stesso quantitativo di filato basta ripetere più volte il motivo traforato è a vostro piacere io per ora ve la faccio vedere come l'ho presa io la misura la dovrete prendere ecco qui vediamo se riesco a togliere la cartina così non riflette tanto in questa parte dei fianchi quindi la parte più larga dei vostri fianchi io infatti l'ho presa proprio qui in questa parte qua perché è dove il fianco sporge di più così sono sicura che la gonna anche senza bottoni o cerniera passi tranquillamente per essere indossata bene detto questo io direi che passiamo direttamente al tutorial allora per fare la nostra gonna non c'è un multiplo non c'è un multiplo perché a un certo punto dovrà talmente arricciare che anche se non dovessero tornarvi i conti con le catenelle non importa adesso so che detto così sembra non abbia significato quello che sto dicendo ma vedrete che lo capirete andando avanti con il lavoro quindi avvierete delle catenelle che cingano i vostri fianchi in modo comodo ecco andiamo a chiudere la nostra catenella tenendola dritta in cerchio quindi la chiudiamo ecco qui in cerchio questo è un campioncino ma sapete che io uso spesso i campioncini ho usato anche un filato più grosso in modo che si veda meglio allora andiamo a chiudere in cerchio la nostra catenella e andiamo semplicemente a fare 3 catenelle ed ora faremo una maglia alta in ogni catenella sottostante quindi una in questa poi nella prossima perché le prime sono le più strette perché io stringo molto il nodino allora eccolo qua eccolo qua ecco qua maglia alta maglia alta maglia alta e quindi andiamo a fare una maglia alta in ogni catenella sottostante fino al termine del giro fatto quindi il primo giro di maglia alta e chiuso in cerchio sulla terza catenella di partenza con una maglia bassissima ci alziamo di nuovo con 3 catenelle dopodiché ne facciamo una quarta che sarà di separazione perché salteremo la prossima maglia e andremo direttamente sulla terza quindi la prima è quella la prima sottostante quella dove abbiamo fatto le 3 catenelle la seconda la saltiamo andiamo direttamente sulla terza con una maglia alta di nuovo catenella saltiamo la prossima maglia e sulla successiva maglia alta quindi vedete saltiamo sempre una maglia sottostante con la catenella quindi facciamo la catenella saltiamo la maglia andiamo in quella prossima di nuovo catenella saltiamo una maglia andiamo nella prossima di nuovo catenella saltiamo una maglia nella prossima catenella saltiamo una nella prossima questo sarà il giro dove voi infilerete la vostra culisse quindi la catenella che vi aiuterà poi a stringere un po' più su del fianco la vostra gonna ecco qua, saltiamo successiva maglia alta catenella, saltiamo maglia alta catenella saltiamo una maglia alta catenella saltiamo una maglia alta catenella, mi saltiamo una di nuovo, maglia alta catenella mi saltiamo una e di nuovo siamo arrivati qua, vedete? io ce le ho giuste quindi ho fatto la catenella ne ho una e quindi posso chiudere se voi non le avete giuste quindi ve ne manca una voi fate comunque la catenella e vi congiungete fa niente se c'è un piccolo aumento tanto la gonna deve andare allargando e quindi non ha non crea nessunissimo problema per quello che vi dicevo che il multiplo non serve calcolarlo perché in ogni caso noi dovremmo fare degli aumenti quindi che ne facciamo qualcuno in più qualcuno in meno a noi non cambia nulla quindi ora andiamo a fare le nostre 3 catenelle e la prima quindi maglia alta già lavorata con le 3 catenelle entriamo nel forellino della catenella sottostante e facciamo la maglia alta quindi andiamo a riempire tutti i buchi che abbiamo fatto tutti i fori che abbiamo fatto nel giro sottostante quindi carichiamo io ho lavorato sulla maglia adesso lavoro tra le maglie quindi dove ho fatto la catenella di nuovo lavoro sulla maglia di nuovo lavoro tra le maglie vedete? vado semplicemente a riempire quello che ho forato nel giro precedente faccio così per tutto il giro quindi una maglia alta sulla maglia alta sottostante e una maglia alta nello spazio della catenella sottostante fate di nuovo una maglia alta sulla maglia alta e quindi così fino a termine del giro dopodiché andate a fare un numero a vostra scelta di giri tutti a maglia alta perché a vostra scelta? perché io ho deciso di fare una cintura da 7 cm circa voi potreste volerla più alta più sottile quello è a vostra scelta quindi i giri che farete adesso sono a vostra scelta perché saranno tutti i giri a maglia alta quindi adesso io termino questo giro ne faccio un altro dopodiché procediamo con la gonna vera e propria quindi questa è la parte della cintura il bordino in alto e poi cominciamo proprio con gli aumenti della gonna eccoci qua in questo momento noi abbiamo fatto per l'appunto questa cintura e adesso andremo a fare questi archetti che ci porteranno all'aggancio per la gonna quindi da qui in avanti iniziano gli aumenti e vi faccio subito vedere vedete nel campioncino ho fatto la stessa cosa io semplicemente ho lavorato più in grosso per far vedere meglio allora adesso non andiamo a fare altro che sulla facciamo una catenella rientriamo nella stessa maglia sottostante dove ho fatto la catenella e facciamo una maglia bassa in questo modo dopodiché facciamo una due tre quattro cinque catenelle salto una due tre e nella quarta maglia faccio la maglia bassa di nuovo una due tre quattro cinque catenelle salto una due tre quattro maglie sottostanti sulla quinta faccio la maglia bassa uno due tre quattro cinque catenelle salto una due tre quattro maglie sottostanti e sulla quinta maglia bassa di nuovo uno due tre quattro cinque catenelle salto una due tre quattro sulla quinta maglia maglia bassa uno due tre quattro cinque catenelle 1, 2, 3, 4, sulla quinta, maglia bassa 1, 2, 3, 4, 5 catenelle 1, 2, 3, 4, sulla quinta, maglia bassa 4, 5 catenelle, di nuovo vedete? io adesso ne ho a saltare 1, 2 e 3 non è importante se non ho la quarta e devo arrivare alla quinta io ho fatto le 5 catenelle, chiudo direttamente con una maglia bassissima sulla maglia bassa non importa se questo archetto rimane un po' più lento perché tanto poi ai fini della nostra lavorazione non si vedrà assolutamente e soprattutto non inciderà nel nostro lavoro quindi se poi a voi sembra che sia troppo morbido perché avete una mano più morbida nel fare le catenelle non importa, allora disfate una catenella quindi invece di 5 le fate solo 4 ed entrate sempre a chiudere nella vostra maglia bassa di inizio ora ora ci alziamo con 3 catenelle ed andiamo a lavorare negli archetti quindi andrò a fare altre 4 maglie alte all'interno dell'archetto per un totale di 5 quindi ne ho fatte 4 e una 5 di nuovo salto nell'archetto successivo e vado a fare 5 maglie alte 1 2 3 4 e 5 di nuovo salto nel prossimo archetto e vado a fare 5 maglie alte 1 2 3 4 e 5 e così per tutto il resto del giro arrivati al termine del nostro giro concludiamo con una catenella sulla terza maglia di inizio in questo modo ora ci ritroviamo vedete abbiamo degli spazietti perché abbiamo lavorato solo negli archetti quindi si creano naturalmente degli spazietti noi andremo a lavorare in questi spazietti quindi entriamo ecco torniamo è come se tornassimo indietro quindi facciamo una catenella è come se tornassimo indietro di una maglia perché ovviamente questa è lavorata sulla prima maglia facciamo una maglia bassa più 2 catenelle ed ora lavoreremo altre 2 maglie alte perché la prima appunto l'abbiamo sostituita con maglia bassa e 2 catenelle 3 catenelle e di nuovo sempre nello stesso spazietto altre 3 maglie alte quindi andiamo a lavorare delle conchiglie in questo modo o ventaglietti chiamatele come volete io di solito queste le chiamo conchiglie vedete ho fatto la prima conchiglia ora salto direttamente nel prossimo spazietto quindi salto 1, 2, 3, 4 le 5 maglie ecco diciamo salto le 5 maglie e vado a lavorare nel prossimo spazietto in questo modo quindi di nuovo 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle così e di nuovo 3 maglie alte 1 2 e 3 in questo modo in questo modo vedete stiamo facendo e già stiamo aumentando quindi saltiamo di nuovo le 5 maglie andiamo nello spazietto che si crea tra le 5 maglie prossime e le altre 5 di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte 3 catenelle 3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte 1 2 e 3 così per tutto il nostro giro arrivati all'ultima conchiglia congiungiamo con una maglia bassissima sulla prima delle 3 maglie alte quindi la prima la terza catenella di inizio giro e camminiamo in questo modo a maglie bassissime fino alla terza delle 3 maglie alte quella più vicina allo spazietto centrale ecco ci sono sopra vediamo se ci sono sopra bene sì vado a fare 3 catenelle che sarà la mia prima maglia alta e altre 3 maglie alte le faccio proprio all'interno dello spazietto in questo modo quindi 2 e 3 3 catenelle carico il filo e vado a fare altre 3 maglie alte all'interno quindi al centro della conchiglia dove abbiamo fatto l'archetto di 3 catenelle sottostante e la quarta la faccio sulla prima delle 3 maglie alte della conchiglia sottostante quindi entro sulla prima e faccio la mia quarta maglia alta vedete stiamo iniziando a fare di nuovo aumenti quindi carico vado direttamente sulla maglia alta prima dello spazio quindi salto 2 maglie alte della conchiglia successiva sulla terza maglia alta vado a fare di nuovo una maglia alta le successive 3 maglie alte 3 catenelle e 3 maglie alte le faccio all'interno dell'archetto che trovo sotto di 3 catenelle quindi al centro della conchiglia di nuovo 3 maglie alte ecco qui 2 e 3 ovviamente la quarta maglia alta la vado a fare sulla prima maglia alta dopo l'archetto quindi su questa vedete abbiamo ingrandito anche questo quindi di nuovo ve lo faccio rivedere andiamo sull'ultima maglia alta prima dello spazietto quindi ne saltiamo 2 e lavoriamo sulla terza maglia alta che incontreremo 3 maglie alte all'interno dell'archetto sottostante 3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte 1 2 e 3 la quarta maglia alta la andiamo a fare sulla prima maglia alta subito dopo l'archetto quindi qui e andiamo avanti così per tutto questo giro arrivati in fondo alla conchiglia vado semplicemente a congiungere con una maglia bassissima sulla terza catenella di inizio quindi sulla prima maglia alta ora cammino fino a saltare le prime due quindi lavorerò le due maglie alte prima dell'archetto quindi entro in questa faccio 3 catenelle che sarà la nostra prima maglia alta lavorerò la seconda maglia alta prima dell'archetto dopodiché vado a fare 3 maglie alte all'interno del nostro archetto ecco qui 3 catenelle e di nuovo scusate se cigola ma ho le mani sudate e sto lavorando una lana quindi cigola sull'uncinetto perché si con le mani sudate diciamo si inumidisce il filato e cigola fa fatica a scorrere sull'uncinetto quindi ecco qua abbiamo fatto le tre andiamo sulla maglia alta successiva all'archetto facciamo una maglia alta e sulla maglia alta seconda quindi sulla seconda vicino all'archetto facciamo una maglia alta vedete sono diventate 5 maglie alte da un lato e 5 maglie alte dall'altro quindi noi cosa abbiamo fatto abbiamo saltato una sola maglia alta quindi e siamo andati a lavorare scusate abbiamo saltato sempre due maglie alte della conchiglia sottostante e abbiamo lavorato sulle due maglie alte restanti prima del nostro archetto vedete ve lo faccio rivedere perché a volte io mi confondo quindi saltiamo le prime due maglie alte della conchiglia sottostante lavoriamo sulla terza e sulla quarta quindi con una maglia alta sulla quarta con una maglia alta dopodiché altre tre maglie alte le facciamo all'interno del nostro archetto sottostante tre tre catenelle una due e tre e altre tre maglie alte una due e tre la quarta maglia alta sarà sulla maglia alta successiva all'archetto e la quinta sulla maglia alta dopo quindi vedete in questo modo abbiamo fatto altri aumenti procediamo così per tutto il nostro giro ecco qua mi sono congiunta ovviamente con la terza catenella d'inizio per chiudere il giro vedete come sta allargando poi ovviamente voi calcolate che questo filato è un filato veramente grossolano io ho usato questo filato che tra l'altro all'inizio non vi ho detto non ve l'ho detto strano perché io di solito lo dico sempre è ovviamente un filato ice questa è un filato ice che io ho acquistato da italia artisan voi sapete quando parlo di ice sempre italia artisan sicuramente la conoscete già questa questo tipo di cake perché ho fatto il mio vestito spring light ma ve lo ve ne riparlo sono 50% cotone 50% acrilico 150 grammi per 600 metri mi ero persa via questo giro e non vi avevo detto questi particolari sul filato ma sapete che uso sempre filati di qualità e ice è assolutamente un filato di qualità al termine leggero ci congiungiamo con una maglia bassissima all'interno ecco qua della terza catenella d'inizio ora saltiamo solo una maglia quindi camminiamo nella seconda maglia della conchiglia sottostante facciamo tre catenelle e andiamo a lavorare tutte le maglie alte sottostanti in questo modo quindi farò quattro maglie alte sulle quattro maglie alte sottostanti due maglie alte due catenelle e due maglie alte ecco qua nella scusate archetto sottostante dopodiché ricomincio a lavorare sulle maglie alte in questo modo quindi sono due tre e quattro per un totale di sei maglie alte da un lato due catenelle sei maglie alte a discendere dall'altro lato scusate ho toccato la videocamera di nuovo saltiamo la prima lavoriamo nella seconda maglia alta della prossima conchiglia quindi andiamo a lavorare le quattro maglie alte sottostanti tre quattro due maglie alte due catenelle e due maglie alte nell'archetto in questo modo quattro maglie alte sulle quattro maglie alte sottostanti e di nuovo saltiamo questa saltiamo questa e lavoriamo quindi saltiamo l'ultima della conchiglia che sto lavorando e la prima della conchiglia successiva e quindi vado qui sulla seconda in questo modo l'ho fatta stretta e vado a fare da questa una due tre quindi lavoro le quattro maglie alte sottostanti e di nuovo due maglie alte nell'archetto sottostante due catenelle e due e due maglie alte di nuovo dopo il nostro archetto andiamo a fare altre quattro maglie alte sulle quattro maglie alte sottostanti quindi una due tre e quattro quindi saltiamo la quinta saltiamo la prima della prossima conchiglia o ventaglio chiamatela come volete carichiamo il filo e ricominciamo a lavorare le quattro maglie alte a salire due maglie alte nell'archetto due catenelle e due maglie alte tutte in questo archetto centrale dopodiché lavoriamo sulle quattro maglie alte a discendere saltiamo l'ultima e la prima del prossimo ventaglietto o conchiglia e ricominciamo a salire quindi questo fino al termine del giro una volta unita sulla terza catenella ad inizio per chiudere il giro da ora in avanti procederemo sempre nello stesso modo quindi saltiamo sempre la prima del ventaglietto o della conchiglia quindi la prima e l'ultima verranno sempre saltate tre catenelle lavoriamo le cinque maglie alte sottostanti quindi sarà sempre così quindi ne avrete sempre cinque da lavorare sulle maglie in questo modo dopo di che una maglia alta nell'archetto due catenelle e una maglia alta nell'archetto quindi diventa una sola la maglia alta nell'archetto dopo di che lavoriamo le cinque maglie alte della della conchiglia sottostante quindi in questo modo lavoriamo cinque loro saranno sei ma normalmente noi salteremo quindi l'ultima da questo lato e la prima da questo lato quindi iniziamo a lavorare dalla seconda di nuovo lavoriamo le cinque maglie alte che incontriamo due tre quattro se hanno dato il filo e cinque dov'è? qua un due tre quattro eccola qua cinque dopodiché una maglia alta all'interno dell'archetto due catenelle una maglia alta e le cinque a discendere ora vi faccio vedere sull'originale eccola qua vi faccio vedere sull'originale appunto il punto perché si vede meglio notevolmente meglio ecco diciamo che fatto sul campione con un filato grossolano non è il massimo da lavorare e non è neanche bello il risultato invece guardate quanto è bello il risultato su un filato sottile rimane molto più arricciato all'inizio si apre bene sembra proprio ho dato questo nome alla gonna quindi la collegiale proprio perché sembra una di quelle gonne che si usavano una volta per le divise scolastiche ecco diciamo oppure insomma queste gonnelline così potete farla anche lunga ma vedete io adesso vi conto le maglie sull'originale così riuscite a vedere bene sono una due tre quattro cinque lavorate sopra le maglie sottostanti una maglia nell'archetto due catenelle una maglia nell'archetto si riscende lavorandone cinque si saltano sempre l'ultima e la prima e così via la definitura l'ho fatta semplicemente con un giro di maglia bassa così come si presentavano le maglie quindi lavorando su tutte le maglie nello spazietto centrale ho semplicemente fatto due maglie basse separate dalle due catenelle quindi ho fatto esattamente come nel giro sottostante ho fatto proprio le maglie così come si presentavano però a maglia bassa giusto per dare un bordino un po' più definito vedete e la gonnellina si presenta in questo modo ora ve la faccio rivedere eccola qua queste queste righe forate ve le faccio vedere subito è facilissimo ve la spiego proprio in pochissimo tempo perché è veramente facile da fare una volta finito il giro non faccio altro che saltare la prima andare sulla seconda fare le tre catenelle che sono la nostra prima maglia alta e farne una aggiuntiva quindi una quarta io adesso vi faccio rivedere mi sono congiunta con la maglia bassissima sulla terza catenella all'inizio dopodiché ho scavallato quella maglia e sono andata su quella successiva con una maglia bassissima ora mi alzo con tre catenelle che è la prima maglia alta scusate una catenella per saltare la maglia sottostante vado a lavorare in quella successiva ecco qua lavoro in quella successiva dopodiché catenella ne salto una lavoro in quella successiva in questo in questo modo dopodiché vado a lavorarle tutte quindi lavoro quella successiva lavoro la maglia alta nell'archetto le due catenelle le due scusate la maglia alta nell'archetto per discendere dall'altra parte lavoro la prima delle maglie alte vedete in questo modo dopo di che faccio la catenella salto la prossima vado nell'altra salto la prossima con la catenella vado nell'altra e quindi sono già arrivata alla penultima maglia perché poi questa la devo saltare saltando questa quindi salto l'ultima di questo ventaglio la prima di quello successivo nella seconda faccio la maglia alta catenella ne salto una vado nella successiva catenella ne salto una vado nella successiva che è proprio quella a fianco quindi vedete al mio spazietto quindi lavoro all'interno dello spazietto quindi faccio due catenelle lavoro all'interno dello spazietto lavoro la prima maglia alta a discendere dall'altro lato e ricomincio con catenella salto la maglia successiva e vado in quella dopo catenella salto la maglia successiva e vado in quella dopo e sono di nuovo arrivata alla penultima quindi l'ultima la dobbiamo saltare nuovamente facciamo la stessa cosa saltiamo l'ultima di questo ventaglietto o conchiglia saltiamo la prima lavoriamo la seconda e di nuovo catenella saltiamo una nella successiva maglia alta catenella saltiamo una nella successiva maglia alta dopodiché siamo arrivati all'archetto e all'archetto ricominciamo normalmente quindi vedete ricominciamo con maglia alta due catenelle maglia alta lavoriamo questa saltiamo la successiva lavoriamo questa saltiamo la successiva lavoriamo questa ovviamente l'ultima e la prima della prossima conchiglia sono da saltare e via dicendo e in questo modo si fa il giro forato il giro successivo non avrà nient'altro che andare a riempire semplicemente quello che abbiamo forato in questo giro quindi vedete è una cosa semplicissima eccoci qua ve la faccio rivedere guardate assolutamente coprentissima anzi se la volete ancora più coprente potete evitare proprio i giri io li ho fatti qua e là vedete non hanno neanche una logica ne ho fatti un po' all'inizio poi li ho fatti sotto non siete ne obbligati a farli questi giri forati potete anche non farli anzi vi dico la verità forse viene anche più bella senza questi giri forati io li ho fatti perché ovviamente sapete che quando faccio i progetti io un po' sperimento per vedere come vengono comunque potete anche decidere magari di fare quattro giri a punto pieno e un giro ecco di questi forati dipende da quanto volete coprente la gonna più la volete coprente meno giri ovviamente di fuori dovete fare perché altrimenti dovrete usare una sottoveste io ripeto questo filato l'ho lavorato con un 2,5 mi sono trovata benissimo devo dire la verità ho iniziato siccome sono due di queste cakes ho iniziato dall'interno vedete infatti inizio con il viola ne ho usata una quindi dall'interno sono partita dall'interno col viola quando sono arrivata all'esterno azzurro l'altra cake l'ho iniziata al contrario quindi sono partita dall'esterno per avere proprio la continuità di colore quindi ho fatto viola azzurro azzurro viola in modo da appunto avere questo bel gioco di colore che non venissero proprio delle righe il filato lo trovate in descrizione vi lascio sia il link diretto al filato che il link dello shop italia artisan come sempre io vi mando un grosso abbraccio spero che questo tutorial sia stato chiaro so che ve l'ho fatto aspettare tantissimo le amiche del gruppo facebook creando con luce franci questa gonna l'avevano già vista prima che io partissi per le vacanze ma non ho fatto in tempo a registrarla e di conseguenza ho posticipato l'uscita e la registrazione e di conseguenza l'uscita spero che vi possa piacere questo è un progetto che va bene anche per l'autunno è fatto con un filato un po' più caldo secondo me anche per l'inverno perché è una gonnellina abbastanza portabile in varie stagioni dipende poi dal filato con il quale la decidete di farlo mi mando un grosso bacio vi invito a venire a trovarmi nel gruppo facebook creando con luce franci sempre per farmi vedere i vostri lavori fatti con i miei tutorial ma anche lavori vostri o tutorial di altre non c'è nessunissimo problema vi mando un grosso bacio bacio scusate ciao ciao da luci al prossimo tutorial ciao 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 ciao